Eccoci, eccoci in diretta. Evidentemente c'è stato qualche problema dal punto di vista tecnico, dunque la presentazione delle squadre e l'entusiasmo qui dei tifosi di casa del Fasano che hanno riempito naturalmente il Palentini di Noci. Quindi ospitalità appunto offerta dalla società di Noci per questa doppia finale della Junior Fasano, la prima nella storia dei pugliesi. Ricordiamo che il Noci ha vinto il campionato, squadra di A2, quindi il prossimo anno farà la 1 e ha ospitato un spettacolo del genere anche perché Fasano era troppo piccolo per questo evento. Il colpo d'occhio è veramente eccezionale. Andiamo a vedere anche come sono arrivate le due squadre a questo appuntamento, naturalmente attraverso la grafica che ci riassume un po' il tutto. Vi ricordo che gli arbitri sono Giuseppe Cosenza di Gela, Davide Schialone di Siracusa e delegati PGH, Giuseppe Nasca di Capoterra, Mauro Mondin di Torino. Tutto pronto, Fasano con la consueta maglia bianco-azzurra e dall'altra parte casacca ufficiale anche per il Bolzano bianco-rossi. Questo è l'albo d'oro. Nelle ultime due stagioni Bolzano ha vinto due scudetti. Vedete come la Puglia sia stata sempre protagonista del campionato italiano di pallamano. Con Bersano ma non solo, c'è stato un periodo anche di Casarano e Trieste che di fatto è la società che detiene il maggior numero di scudetti. Lo dico spesso la Juventus per quanto riguarda la pallamano italiana anche se negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà in più. Sì, Fasano è la sua prima finale in assoluto della sua storia. Bolzano viene da due scudetti vinti l'anno scorso con Fusina, quindi da tre anni che è protagonista del campionato. Finale inedita perché come avevamo detto prima sono incontrati l'anno scorso in semifinale dove il Bolzano ha dimostrato di essere effettivamente molto più forte. Quest'anno secondo me c'è molto più equilibrio, partono la pari, 180 minuti, differenza reti, quindi è importante sia la prima partita ma anche la seconda. La domanda che ho fatto ad Ancona che adesso è inquadrato, quella rimonta comunque incredibile da parte del Fasano nella gara con la Terracu e la Carpi, può in qualche modo essere pagata dai giocatori anche dal punto di vista nervoso in questa doppia finale? Ma può essere, non credo a pagate perché sono molti giocatori, tranne Fovio, Maione, nessuno ha fatto una finale, quindi anzi secondo me hanno avuto una spinta in più, soprattutto al pubblico che oggi effettivamente è molto molto compatto e presente, stanno, si è riempito, il palazzetto si è riempito un'ora fa, quindi l'entusiasmo è alle stelle. Primo precedente risale addirittura al 1990 nella Serie A2, domando Bolzano vinse 21 a 19, le ultime due gare a cui facevamo riferimento nella scorsa stagione, le due gare di semifinale Scudetto, Bolzano vinse in casa 31 a 25 e poi Fasano vinse 24 a 20 ma non riuscì nella rimonta per quanto riguarda l'accesso poi a quella finale Scudetto. Ma diciamo che il Fasano da, da, sono 8-10 anni che si è affacciato da quando c'era l'Elite ad alti livelli, però gli ultimi tre anni con la vittoria della Coppa Italia, semifinale lo scorso anno, finale quest'anno, insomma adesso comincia ad avere un'entità marcata nel panorama nazionale, mentre Bolzano da tre anni a questa parte è vincente, ha fatto un, Podini ha fatto uno sforzo notevole per allestire queste formazioni veramente vincenti. Quest'anno ha dovuto ridimensionare un attimino però eccolo qua, la vediamo sempre in campo per la finale. I precedenti li possiamo vedere anche in grafica così abbiamo anche la visualizzazione di quello che stiamo dicendo e eccoli qua e ne vedete insomma ce ne sono diversi negli ultimi anni con Bolzano appunto che ha un conto di 6-3 considerato però il primo presidente assoluto del 97-3 per la formazione alto a Tesina. Però è un Fasano che si vorrà giocare naturalmente tutte le proprie carte contro i campioni d'Italia che hanno avuto la meglio su un pressano che comunque anche in questa stagione si è ben comportato e bisogna fare i complimenti in ogni caso anche al Carpi perché il Carpi ha disputato comunque un ottimo campionato. Carpi che si è riproposto dopo tanto tempo insomma nella Serie A maggiore e raggiungere subito la semifinale è stato comunque un ottimo obiettivo. Il Carpi ha fatto, grazie al grandissimo lavoro di Cerchiari, ha fatto un grandissimo passo avanti, ha fatto la finale persa ai supplementari col Fasano. Quest'anno è uscita in semifinale sbagliando solo una partita praticamente, la partita di ritorno ma l'attenuante che mancavano i due terzini titolari con scatto a Retoicic il Carpi poteva sicuramente dare il più però sicuramente si è affacciato in un panorama molto molto consistente e quindi facciamo un in bocca al lupo a Cerchiari per perseguitare, lasciare perdere l'amarezza della semifinale e di continuare così perché che ne dicano gli altri sta facendo un grande lavoro. Intanto è rimasto a terra Berzic sulla prima azione, gara che è cominciata con qualche minuto di ritardo per una questione proprio organizzativa vicino alla tribuna dei tifosi del Fasano, gli arbitri hanno voluto insomma una distanza di sicurezza e dunque c'è stata un po' di perdita di tempo all'inizio e c'era anche il tabellone che aveva avuto delle problematiche. Intanto Rubino che prova ad andarsene ha subito il fallo la prima azione della partita ancora vede avanti la formazione di casa nel tentativo di sblocare subito il risultato è evidente che nell'ottica della doppia partita per Fasano è molto importante una vittoria anche con qualche rete di vantaggio Prima parata di Jurina sul gran tiro di Berzic, troppo centrale però ha fatto vedere che Jurina per il momento c'è Turkovic, palla per Radovcic Fasano parte con una 5-1 con Flavio Messina a cercare di tenere a bada Sporcic con la pressione delle due ali e adesso è Turkovic che cerca di prendere palla e De Santis De Santis che se ne va, prova ad andarsi uno contro uno, Jurina Naturalmente per Fasano questa è la situazione migliore, difesa forte, recupero palla e ripartenza in velocità E questo sicuramente l'aspetto dove si esalta la formazione di casa Jurina però ha detto di no Ancora 0-0 in questa prima finale scudetto del campionato italiano di palla a mano maschile Berzic Ha cercato Anche Bolzano parte con una 5-1 con Radovcic davanti che sicuramente è un ragazzo molto molto sveglio Per Maione 7 metri Naturalmente Maione gioca contro i suoi vecchi compagni ha vinto lo scudetto proprio nella scorsa stagione gli ultimi due con Bolzano E questo che non deve fare Bolzano sicuramente Fusino avrà studiato per bene perché è la persona più pericolosa in mezzo all'area e Maione non può la difesa Bolzano lasciarlo l'uno contro uno Bearevic Troppo pericoloso Contro Jurina La prima rete di questa finale scudetto Proprio lui Bearevic Vedete che ha ha praticamente ancora i segni di quella botta avuta nel corso della semifinale scudetto Dove è disputato una partita fantastica Ha una benda proprio vicino all'occhio dove aveva subito il colpo da parte di Marrochi però regolarmente in campo Bearevic E ha ripartito a Fasano con l'intensità difensiva che si è visto nella partita di Carpi Turkovic Gaeta Si fa a vedere Kammerer Ancora Gaeta Sporcic Questa è una gran rete di Sporcic Che conclusione davvero bella quella di Sporcic Bearevic addosso non è riuscito a vedere la palla partire Vito Fovio Dunque Attacco di Attacco di Spasano Rubino Ancora Jurina Jurina Gaeta Sporcic Ma lui ha la propria Fovio Naturalmente saranno molto importanti i portieri Adesso l'ha visto partire Ci ha messo la mano a sinistra Si è acceso l'entusiasmo qui E ancora Maione Che sbaglia Però Demis Radovic Fallo su di lui Sette metri Ancora un sette metri Per la squadra di casa Ottimo l'assist di Bearevic E' chiaro che E' una Situazione Storica Per la piccola cittadina Per Fasano Giocarsi lo scudetto Bearevic E sentite La passione che c'è Al Palantini Per la formazione pugliese Dunque 2 a 1 Turkovic Turkovic Sporcic Gaeta Turkovic Gaeta Turkovic Non trova lo spazio Gaeta Prova ad andarsene Turkovic Gran giocato di Gaeta Che libera Turkovic In penetrazione Rubino Non riesce a chiudere E' Bearevic E' quello qua Che si assume La responsabilità del fallo Sette metri In favore di Bolzano Sette metri Con Radovic Contro Fovio Quante volte Hanno giocato insieme Adesso Avversari E anche il nazionale Non sbaglia Radovic Reti E dunque 2 a 2 Anna Bolzano Che in questo inizio di partita Sta mantenendo una grande calma Viene avanti La squadra molto Molto esperta Lo sta dimostrando Con tranquillità Rubino Ebbene le ripartenze Del Fasano Il Fasano sta partendo Molto bene E Maione Ottima qui La 3 Rubino Maione 3 a 2 Se si lascia spazio L'ho detto prima Se si lascia l'uno contro uno Maione è devastante E lo sbaglio che non devono fare Eccolo qua Non lo puoi tenere Vi ricordo la possibilità Di entrare in contatto Con noi Attraverso il Twitter Chiocciola RaiSport Web Hashtag Palla a mano Eccolo l'indirizzo Per entrare in diretta Commenti E domande A Franco Chionchio Barzic Che viene Fermato In Maniera Irregolare Fasano Può andare Al doppio vantaggio Mentre si lamenta Messina Messina deve star tranquillo C'è stato il fallo Di Radovcic Però Barzic Rubino Ancora Rubino Per Berzic Barzic Riurina Sempre molto presente In porta In questo inizio di partita Dei Santi Si ha recuperato benissimo Bearevic Non dà neanche il tempo All'intervento di Iurina 4 a 2 Più 2 Rivediamo qui Hanno deciso di non intervenire I due arbitri Potevano esserci qui gli estremi Per uno sfondamento Però La decisione è stata di far proseguire Dunque 4 a 2 Per Bolzano Kammerer Bolzano in fase d'attacco Ha cercato di sorprendere Fovio con una rovesciata E' uscita larga Kammerer Però L'intenzione era Buona Anche sotto fallo Turkovic Radobcic Dietro per Turkovic Ancora Gaeta Kammerer Ottimo assist di Gaeta Kammerer è stato un po' sorpreso Non è riuscito a prendere palla L'assist era ottimo Infatti è lui che Ha ripreso il posto da titolare A posto di Maione Questa è buona Questa è buona la palla Bella azione Presa la palla con una mano Kammerer è riuscito a A procurarsi un 7 metri Sicuramente un Bolzano Che come sottolineava Franco Chionchio Ha una grande esperienza Due scudetti consecutive La squadra Che ha perso degli elementi anche importanti Però Resta Una formazione Di grande sostanza Qui Turkovic Che non sbaglia dai 7 metri Turkovic Prima Radobcic e Fovio Hanno giocato tante partite Turkovic e Fovio Addirittura l'anno scorso a Bolzano Vivevano insieme Quindi ancora di più Ma in che senso Stesso appartamento Rubino Barzic Ancora Barzic Va Bearevic Trova una rete Incredibile Incredibile Bearevic Queste sono le sue azioni Guardate Dario Barriola Come ci fa apprezzare Il movimento del giocatore È una forma strepitosa Però Gaeta deve stare un po' più fuori Troppo Troppo passivo sui 6 metri Se lascia spazio Alla rincorsa Di Bearevic Sono dolori La Gaeta Murato Turkovic E Fovio A dire di no Muro di Giannoccaro E parata di Fovio Grande entusiasmo Qui al Palentini Bearevic Per De Santis A cercare Rubino Ha subito il fallo Sulla conclusione Potrebbe andare al più 3 Che sarebbe il massimo vantaggio In questa finale scudetto di andata La Junior Fasano Settimana prossima Il ritorno In terra alto A Tesina E si deciderà lì Lo scudetto 2013-2014 De Santis Molto profonda la difesa Adesso è più una 3-2-1 Deve concludere Fasano C'è stato fallo Episodio estremi Per un'ammunizione Eccolo qui Su Sporcic Sempre sotto passivo Fasano Quindi dovrà andare Alla conclusione Rapida Anzi No No con l'ammunizione E' stata l'ammunizione Quindi è stato annullato Il passivo Maione Bearevic E' infrazione di passi In attacco Può ripartire Bolzano E questa E' questa Sporcic E' l'arma L'arma del Eccolo qua L'arma del Dall'altra parte Radovcic Che non sbaglia 5-4 Se si concedono ripartenze Al Bolzano E' la squadra Devastante Con Radovcic Finalizzatore Grande assist Di Turkovic Vediamo qui Davvero bella Anche questa Azione Da parte della squadra Campione d'Italia Che sta Finora Giocando Con grande Sicurezza Sul campo Certamente Non facile Della Junior Pasano Borzic Bearevic Ancora Bearevic Per Rubino Iurina E' stato il fallo Su Rubino Che ha cominciato Molto bene Questo match Sette metri Per difesa In aria Di Penso Di Turkovic Addirittura Sporcic Che era dentro A marchare Su Beric E poi Andra Maione Che trova La rete 5-6 A 4 Per Pasano 6-4 4 redi Di Bearevic 2 di Maione Turkovic Radomic Sporcic Ancora Turkovic Gaeta Vuole andare In penetrazione Ha subito Il fallo Gaeta Sta rientrando Un po' Sui suoi livelli Dopo aver avuto Qualche problema Di tipo fisico Nell'arco Della stagione E' stato Fuori tanto E' rientrato Anche alla prima Presano Non si vedeva Nei miglioramenti Ma a livello Di finalizzazione Non era pronto Nella partita Di ritorno E' stato Molto molto Importante Il suo apporto E si vede che ha Già ripreso Il ritmo Partita Sporcic Ha subito Un fallo Può andare Al tiro di punizione Il Bolzano Traccio del passivo Deve concludere E' gran palla Camerer Ha trovato Una bella Conclusione Ancora Di fisico Ha preso posizione Camerer 6 a 5 Buona la partita La partita di Camerer Però Grande Turcovic Che l'ha pescato In mezzo all'area E' stato Colpomente Lasciato solo Dalla difesa Del fasano Camerer Finchini Due Due rigori Procurati Una rete Buona la sua Partenza in attacco Gana equilibrata Ora Berzic Babbearevic Traversa Anche qui Si è alzato Fibilità Adesso di andare Al pareggio Per i campioni D'Italia Sporcic Baturcovic Palo pieno Messina In contropiede Solo Messina Areti Messina 7 a 5 Idolo Idolo dei tifosi Messina Ha fatto alzare Tutta la tribuna Queste sono le azioni Della Junior Fasano Due legni Uno per parte Poi La ripartenza Letale Del fasano Sporcic Turcovic Gaeta Ancora Gaeta Correbbero passi Dalla panchina Del fasano C'è stata una Resta a terra Gaeta Rivediamo Con Messina Ginocchio Ginocchio Poi Gaeta C'ha il ginocchio Infortunato È stato quello che Gli ha causato Problemi Si lamenta Fusina Con il delegato Figgia Canasca È chiaro che L'ipotesi di perdere Gaeta Fa alzare la tensione Perché è evidente Che è un giocatore Assolutamente importante Nella dinamica Della formazione Di Bolzano Vabbè Speriamo che Naturalmente L'augurio appunto Che si possa riprendere Anche se Insomma C'è stata la botta Il contatto C'è stato È chiaro che Non Penso che Entra Si è fatto male Anche Messina Questi ginocchi e ginocchi Sono Sono toccati Ha avuto la peggio Gaeta Che è ancora dolorante È un peccato Di schiacere Vedere Eh sì Lo devono accompagnare A braccia Fuori Certo È proprio Sfortunato Non vorrei che Sfossi girato Guardi bocca al lupo A Felipe Eccolo qua Il ginocchio Tutto incerottato Eh Sta piangendo Certo Davvero sfortunato Gaeta Che si stava riprendendo Alla grande Proprio Dall'infortunio Al ginocchio E torna Invece Insomma Ad avere Lo stesso problema È seduto Sulla panchina Eh Davvero non ci voleva Questo Per Bolzano Ma insomma In generale Per la doppia finale Beh sì È una gravissima perdita Per Per Bolzano Ma soprattutto Dispiace per Il ragazzo Che Sfortunatissimo È da un anno Che È martorriato Dagli infortuni È entrato Wittmann Al suo posto Vediamo di capire Anche qual è L'entità Dell'infortunio L'in bocca al lupo È chiaro Da parte nostra A Gaeta Qui Il settimana Di Sportic Certo Questa situazione Sicuramente Favorisce Fasano Rubino Anche perché Gaeta Nell'economia del gioco Di Fusina È un elemento Molto importante Che Molto importante Perché Può spaccare la partita Sì ma oltre Importante Anche perché Mancino Quindi ha Il giro di palla Inizia l'attacco Adesso Deve giocare con Con Pircher All'ala E con un destro di mano È entrato Wittmann In questa circostanza È più difficoltoso Gestire L'attacco Rubino Bordiccia Ma la conclusione È stato bravo Perché ha visto Che in anticipo Ha rubato il tempo Sorprende Iurina Ha rubato il tempo Sia il difensore E Iurina L'ha visto All'ultimo momento Che vediamo Sportic con le mani basse È stato molto bravo Bordic Time out Fusina E adesso c'è Il time out Chiamato da Fusina Vuole parlarci su Probabilmente Siamo la stessa cosa Ora senza Filippe Però Mica parte la sinistra Quello che è destinato A andare pivot Due pivot È sempre Mica Bruno Se la palla va a Giaccio Giaccio inizia Taglia Flavio Francesco si porta all'ala Se la palla va di qua Attacca Un passo Pivot scorre dietro E scaliamo subito Stapa Sì Facciamo due A seconda fase Anche due Ma se lui rimane fuori Non si può fare L'incrocio In attacco Fai il serimento tuo Senza palla Ok Proviamo a scalare Con l'inserimento di Bruno Vai Hai sentito La croce di Bordano Guardando però Pagano Era voce Voce Ah Prima non sentivamo niente Poi abbiamo sentito Francesca Ancona Dare gli ultimi accorgimenti Alla Alla propria squadra Eh Partita Vivace Con una bella cornice di pubblico Ripeto Peccato Eccolo qua Inquadrato Peccato per Gaeta Questo non ci voleva Perché la partita Era molto equilibrata Adesso C'è qualche problema in più Per il Bolzano Però Ha tantissimi Giocatori Di livello Ecco che è stato Turkovic a spostarsi Dalla parte destra Con sporci Cercino sinistro Va Turkovic Dentro per Kammerer Abbiamo visto Kammerer Che era in giornata E Turkovic In testa di Assistman Anche qui Si è buttato Tutta la parte centrale Buono il movimento Di Kammerer E assist Favoloso Kammerer Kammerer Che ci sta prendendo Una bella soddisfazione Questa finale Scudetto È partito Titolare E sta Rispondendo bene Alla fiducia Di Fusina C'è ancora le distanze Massimo vantaggio Finora della Junior Raffasano È stato di Tre reti Sporcic Kircher Poi Ritman Radovcic Cerca di superare Il proprio diretto avversario Ce ne va Radovcic È stato però Un fallo Dunque Tutto da rifare Per Bolzano In proiezione offensiva Sporcic Ancora Turkovic Attacco di Bolzano Si alza il braccio Del passivo Difesa molto forte In questo frangente Della Junior Fasano Che sta mettendo In difficoltà I campioni d'Italia Sempre passivo Turkovic Magliore alla conclusione Fovio Fovio dice Lino Può ripartire Intanto La Junior Con Il Lancio in avanti Per De Santis Bearevic De Santis Giocano loro È rientrato anche Costanzo Burzic Bearevic Burzic De Santis Rubino C'è spazio La traversa È stato bravo Qui Burzic A recuperare Il pallone Per Pasano Che resta In attacco Eccolo Inquadrato È stato fischiato Fallo Einer Ebene Su Burzic Eccolo Burzic Ancora Rubino Nell'angolo Costanzo È stata difesa Forte qui Tutti lui Da parte di Widman Arriva anche L'arbitro A calmare tutto Fallo molto Sì ma c'è stato Costanzo Che si è trascinato A terra Ecco vediamo Gli ha tirato La maglia Brateale Rubino Bearevic Dentro Rosmaia Burzic Buono l'assist Buono l'assist Di Bearevic Sta giocando Veramente bene Bearevic Sia in fase Di conclusione Che In fase di assist Widman Bocic Turkovic Sempre più tre Per Pasano Bocic La Dovcic Vedete com'è Comunque adesso L'assenza di Gaeta